Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Oggi siamo qui con FIFA 15, quello ufficiale con tutte le modalità, stagioni, carriera eccetera E prima di tutto, prima di partire con l'Ultimate Team perché ragazzi ve l'ho detto, devo ingranare su quello Perché sinceramente non ho mai giocato seriamente all'Ultimate Team Quindi non so come fare gli acquisti, non so come fare i contratti eccetera Non vorrei dover spendere soldi come ho fatto l'anno scorso con FIFA 14 sui giocatori E poi rimanere scopertissimo di contratti, infatti la mia squadra, anzi la mia rosa era veramente limitata per alcuni versi Quindi quest'anno non vorrei fare l'errore, mi farò aiutare da un mio amico che in Ultimate Team se ne intende Lo conoscete, sapete come si chiama, Rusher, Andrea come lo chiamo io E cercherò di farmi aiutare da lui perché so che gli piace molto quindi mi farò seguire Adesso partiamo subito con stagioni ragazzi, io direi di farci una stagionetta veloce Anzi una partita veloce per vedere il livello online della gente Eccoci ragazzi, siamo qui solito contro Real Madrid Stranamente scelgono sempre Real Madrid i giocatori, i miei avversari, strano Müller! Müller! Che schifo! Müller che errore che fa ragazzi dopo due minuti, tre minuti Eh che follo è! Ma lascia giocare, che palle oh! Mamma mia, se ne va via! Lewandowski! Se ne va via! Se ne va via! Lewandowski! In rete! In rete ragazzi! Che gol! Che gol! Mamma mia! Robert Lewandowski! Robert Lewandowski! Che gol! Al tredicesimo! La supera due! Supera Sergio Ramos e poi becca la traversa del rete Mamma mia, attacco! Oh! Dai! Oh ancora! Lewandowski! E la rete! Lewandowski! 2 a 0! 2 a 0! 2 a 0! Il dicesettesimo! E stiamo già umiliando! Eccolo qui! Lewandowski! 2 a 0! Pericolosissimo! Peppe non tiene la palla! E Lewandowski buca nuovamente Casillas! Ancora Lewandowski! Ancora Lewandowski! Cosa è cosa? La si arrotolano tra di loro ragazzi! Si arrotolano! Ancora! Ancora il Bayern! Non la smette più di attaccare! Dai! Non lo segue nessuno! Uhuuu! Si salva ancora! Mamma mia, pericolosissimo Cristiano Ronaldo! L'AM segue! L'AM segue Bale! Bale ancora sulla faccia sinistra! Prova a centrarsi! Ed è rete ragazzi! Che gol che ha fatto Cristiano Ronaldo! Alla fine fare le stesse cose porta fortuna e segnano alla fine! Giustamente Cristiano Ronaldo è un palo altissimo! Cosa? 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 Dai! Marcelo è più forte di Lewandowski! Sì, di Lewandowski! Di Schweinsteiger! Dai corri LAM! Se allunga Bale! Prova a centrarsi! Ma c'è LAM! Ok, Neuer prende! Tranquillamente! La passa a Schweinsteiger! E dai no! Che sfiga! Non ci credo! Due a uno ragazzi! Sbaglia Benattià! Dai! Ma va a cagare! Sempre fallo! Ah ecco, fallo a un mio a posto! Allora va bene! Diozzetto! Finisce il primo tempo! Partiamo subito con il secondo! Ripartiamo! Si permette il lusso di prendere per il culo gli avversari! Neuer! Parte Ribery! Conto Carval! Ma va a cagare! Fa un taglionetto! Ribery! Dai! Ma va a cagare! Che culo di rimpalli che c'hanno! Eccolo! E la rete! 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 Schweinsteiger! Schweinsteiger ragazzi! 3 a 1! 3 a 1! Cosa è successo a questa difesa? Schweinsteiger il suo destro micidiale! Ma ma... E dai! Dai! Ma va a cagare! Lo vedete ste cose? Lam contro Bale! Lam contro Bale! Sbaglio a lei! Sì! Non mi dà coso? Non mi dà... Oh non me lo dà! Porca puttana! Non mi dava il giocatore! Cosa? Va a cagare! Va! Ancora! Eh! Prendimelo ora! Prendimelo! Ma va a cagare! Il portiere che la farà così non si può vedere! Ribery! Ancora! Ribery ancora! Ribery! Cosa sbaglia ragazzi! Cosa sbaglia! Ribery! Che palla! Dai! Vai a cagare! Ma vai a cagare! Prova! Dai! Ma vaffanculo! Guardate che cazzata! Ma guardate che cazzata! Ma porca puttana! Ma vaffanculo! Bastava darmi il giocatore giusto! Cristo! Mi fai sbagliare! E guardate come rimane fermo il mio giocatore! C'è assurdo! Questi qua mi rimontano perché il gioco vuole farmi rimontare! Qua! Ragazzi ma vi sembra controllo di Geron Botten questo? Dai! Ma non scherziamo! Per piacere! Ancora! Ma va cagare! Una spallata! Dai! Tutto regolare ragazzi! C'è l'arbitro fischiato! L'arbitro fischiato ragazzi! 33 metri! E la rete! Rete! 4 a 2! 4 a 2! E' finita qui! Mugler segna il 4 a 2! E finisce qui per il Real! Mo ci manca solo che vi facciano il 4 a 3! E il 4 a 4! Mamma mia! Ma dove cazzo va Robben? Anche se era fuorigioco! Lasciamo perdere il fuorigioco! Ma dove cazzo stava andando ragazzi? Ma ve ne rendete conto? Mamma mia! Recupero del Bayern di Monaco! Bayern di Monaco! Lamparte! Ma dai! Ma me lo davi l'altro cazzo! Ma che schifo! Sbagli questo ragazzo! Dai! Anche se non ho sicuro! Ma cosa si è mangiato? E' un piatto di pesce! Occhio al tocco per Bale! Bale riesce a sormontarmi! Anche cazzo Lam! E Lam si blocca! Ancora le stesse cose! E finisce qui! 4 a 2! 4 a 2 ragazzi! Che Bayern Monaco! E che presa per il Cura! Anche per i due gol che ho preso! Lasciamo perdere! E siamo qui comunque! Abbiamo vinto! Spero che la partita vi sia piaciuta! Perché è stata ricca di emozioni! Ricca di sclerate! Ben 6 gol in partita! Dai! Diciamo che gol ce ne sono stati! Ci siamo divertiti alla fine! Come potete vedere! 7 vittorie e 2 pareggi! 0 sconfitte ancora! Ho giocato abbastanza bene in questi giorni! Anzi in questo giorno! In questo giorno! L'anno... Ah si l'anno scorso! Ieri! Perché ho giocato solo in... In stagione per abituarmi un po' alle meccaniche del gioco! Guardate quanti tiri ho fatto io! Cioè loro hanno fatto 4 tiri e 2 li hanno segnati! Io 8 tiri e ho segnati solo 4! Vabbè! Lasciamo perdere! Ho giocato diciamo meglio io sulla carta! Anche se non ho finalizzato del tutto! Quindi spero che la partita vi sia piaciuta! Ragazzi! Come al solito vi invito a iscrivervi! Commentare! Mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato! Noi ci vediamo alla prossima! Quindi... Bella raga!